eccovi qui ancora con poche shiny per la seconda parte dell'apertura dei 30 pacchetti di ex deoxys vi do un bel po' di codici ragazzi perchè ne ho una marea e non so veramente cosa farmene allora penso che farò una raffola credo adesso poi vedremo che ne ho veramente tanti comunque ci desideriamoci all'apertura di ex deoxys iniziamo con un metang plasol slacking reverse re quaza raro il mio pokemon adorato poi barboach starium electric e fanfi ok scelgol l'ombre master bone reverse e deoxys e deoxys raro slugma natu baltoi sdrumish i pacchetti due maledette carpe master ball master ball domfan bellissimo altaria reverse e clay dololo natu wingul spoing barboach chelgol e namel l'ho aperto questo pacchetto Lunatom Qua c'è qualcosa di interessante Starmi Brilom Olo Reverse E Sharpedo Iex Bellissima Begon Koffing Fumfy Dascul E Spoink E lo trovate in un pacchetto Che non era di Re Quasa Strano Allora, frammento cristallino Lady Oating Un'energia Recupero Reverse Bellissima E un'altaria Olo Dascul Stario Natu Slugma E Makuita Centro Spaziale Mekkergo Vigoroth Reverse Tropius Slugma Makuita Spoink Goldin E Sidot Beh, prima parte un'ex Seconda parte un'ex Devo dire che non mi posso lamentare Energia extra Scoperta del professor Cosmi Shellgon Reverse E Shift E Shift Riraro Nincada Natu Vanpool E Baltoi L'unico pack di Re Quasa Che c'è in questa parte Però vediamo È già uscito L'ex Ma Allora Ma le trick E c'è anche qui Dai Io l'ho detto I pacchetti di Re Quasa Sono i più fortunati Maglia della Forza Sorrock Reverse E Salamence X Bellissimo Spoink Zubat Nincada Beldum E Swablu Io non mi ricordo ragazzi Quali Exo Quali Olo Perché Ripeto L'ho aperto veramente Tantissimo tempo fa Quindi se avete bisogno Di qualche carta Voi chiedete Ma poi Eventualmente vi dico Se posso scambiarlo o meno Metang Lunaton Corfish Reverse E Maitiena Olo Bellissimo anche questo Puciena Sidot Zdrunish Corfish E Tailov Ultimo pack Della seconda parte Abbiamo Mascherain Shellgon Slugma Reverse E' un bellissimo Dusclop Solo E' bellissimo Slugma ancora Zdrunish Tailov Corfish E Zubat Benissimo ragazzi La seconda parte Finisce qui Vi aspetto per l'ultima drowned prendono La seconda parte av positive l'ultima